cara genevieve mi chiedi di raccontarti del mio viaggio di nozze non so se ne avrò il coraggio furbona non mi avevi detto niente non mi avevi lasciato capire niente ma niente di niente ma come sei sposata da 18 mesi sì da 18 mesi tu che ti dichiari la mia migliore amica e tu che un tempo non mi nascondevi nulla e tu non hai avuto la carità di avvertirmi se soltanto mi avessi preavvisata se mi avessi messo in guardia o almeno mi avessi fatto nascere un semplice sospetto magari l'ombra solamente ad un sospetto mi avresti impedito di commettere una grossa sciocchezza di cui arrossisco ancora adesso di cui mio marito riderà per tutta la vita e di cui tu tu sei la sola colpevole mi sono coperta di ridicolo e per sempre ho commesso uno di quegli errori il cui ricordo non si cancellerà più e la colpa è tua perfida oh se avessi saputo senti mentre scrivo mi viene il coraggio e decido di raccontarti tutto ma tu promettimi di non ridere troppo non aspettarti una commedia è un dramma ti ricordi il mio matrimonio dovevo partire la stessa sera per il viaggio di nozze non assomigliavo certamente alla poletta di cui ghip ci ha raccontato la storia del viaggio di nozze in modo tanto divertente e se mia madre mi avesse detto come madame d'autotetà a sua figlia tuo marito ti prenderà tra le braccia e io non avrei certo proseguito come fece poletta scoppiando a ridere non andare avanti mamma so tutto meglio di te e via io non sapevo niente di niente la mia povera mamma che ha sempre paura di tutto non ha avuto il coraggio neanche di sfiorare quel delicato argomento e così alle cinque del pomeriggio dopo il rinfresco ci avvisarono che la carrozza ci attendeva gli invitati erano andati via io ero pronta ricordo ancora il rumore dei bauli per le scale e la voce nasale del babbo che tentava di nascondere la commozione abbracciandomi quel gran brav'uomo mi disse coraggio era come se fossi andata a farmi cavare un dente mamma poi era una fontana mio marito mi metteva a fretta per evitarmi quei difficili addii anch'io piangevo anche se ero felice sono cose inspiegabili ma vere all'improvviso sentii che qualcuno mi tirava per la sottana era bijou di cui mi ero dimenticata sin dalla mattina anche quella povera bestiola voleva dirmi addio a modo suo ebbe una stretta al cuore e mi venne una gran voglia di baciare il mio cagnetto lo presi lo sai è piccolo come un pugno e me lo mangiai di baci carezzare le bestiole mi piace tanto è un piacere ineffabile che farà brividire insomma è delizioso lui pareva impazzito agitava le zampe mi leccava mi mordicchiava come fa sempre quando è molto contento un tratto mi prese il naso tra i denti e sentii che mi faceva male giocando mi aveva morso davvero sanguinavo mi sfuggì un grido e posai bisù a terra tutti erano allarmati portarono acqua aceto garza mio marito volle medicarmi personalmente non era niente due forellini che sembravano fatti con lago dopo qualche attimo il sangue non usciva più partimmo avevamo deciso di fare un viaggio in normandia della durata di circa sei settimane la sera arrivamo a dieppe dico sera ma intendo mezzanotte sai quanto mi piace il mare dissi perciò mio marito che non sarei andato a letto se prima non avessi potuto vederlo mi parve molto deluso e chiesi ridendo se per caso aveva già sonno rispose no cara ma capirai che voglio di rimanere solo con te rimasi sorpresa solo con me ma se siamo stati soli in treno da parigi sorrise sì ma in treno non è come essere soli nell'intimità di una camera non c'è detti e allora sulla spiaggia andremo soli era evidente che non era d'accordo comunque disse va bene se proprio vuoi era una notte stupenda una di quelle notti che portano negli animi idee grandi e fuggevoli più sensazioni che pensieri ho una gran voglia di aprire le braccia come ali e serrare al petto tutto il cielo si è sempre convinti di poter capire l'ignoto nell'aria c'è il sogno un'evanescente poesia una felicità che non è di questa terra un'ebbrezza infinita che discende dalle stelle dalla luna dall'acqua argente e immobile sono i momenti migliori della vita se la fanno sembrare diversa deliziosa più bella sono come le rivelazioni di ciò che potrebbe essere o che sarà e invece mio marito sembrava impaziente di tornare indietro gli chiesi hai freddo no allora guarda quella barchetta pare addormentata sull'acqua si può star meglio di qui rimarrei volentieri fino all'alba dimmi non vorresti aspettare il sorgere del sole pensò che lo prendessi in giro e mi trascinò in albergo quasi per forza se avessi saputo oh che mascalzone quando siamo rimasti soli mi sono sentita piena di vergogna proprio imbarazzata ma senza sapere perché te lo giuro gli dissi di andare nello spogliatoio e io mi sono infilata nel letto oh e ora cara come faccio a dirtelo insomma ecco qui lui ha certamente scambiato per malizia la mia totale ingenuità per astuzia la mia semplicità disarmata per tattica il mio fiducioso abbandono così non ebbe quella delicatezza così non ebbe quella delicatezza necessaria per spiegare per far capire e accettare simili misteri a un'anima del tutto impreparata credetti che fosse diventato matto all'improvviso poi ebbi paura e sospettai che mi volesse uccidere quando una è terrorizzata non ragiona più non pensa più è come folle immaginai in un attimo cose spaventose pensai alle croniche dei giornali ai delitti misteriosi a tutte quelle storie di cui correva la voce di spogina in balia di maniaci lo conoscevo io quell'uomo cercavo di opporre resistenza lo respingevo fuori di me dalla paura gli strappai persino una ciocca di capelli e la punta ad un baffo riuscii a svicolarmi ad alzarmi a urlare aiuto corsi alla porta tolsi il chiavistello e mi slanciai per le scale mezza nuda si aprirono le porte altri uomini con un candeliere in mano apparvero all'improvviso caddi tra le braccia di uno di loro e implorai la sua protezione questi allora si buttò addosso a mio marito non mi ricordo altro si picchiavano urlavano poi ci furono risate risate come non puoi neppure immaginare rideva tutto l'albergo dalla soffitta alla cantina sentivo nei corridoi grandi scoppi di larità e altri nelle camere soprastanti i domestici ridevano nelle soffitte il portiere di notte si torceva dalle risate nel suo lettino a tigualatrio pensa un po' in un albergo e dopo mi sono ritrovata tu per tu con mio marito che mi dette qualche rapida spiegazione così come si fa per un esperimento alle lezioni di chimica prima di verificarlo non si può dire che fosse soddisfatto piansi fino all'alba e partimmo appena aprirono le porte dell'albergo non è tutto il giorno dopo arrivammo a purville che è una stazione balneare agli inizi mio marito mi copriva di cortesia e di premure sembrava molto soddisfatto dopo il primo combattimento vergognosa e dispiaciuta del fattaccio della notte precedente ero stata compiacente quanto una donna può esserlo dolcissima ma non puoi figurarti il disgusto l'orrore quasi l'odio che risuscitò in me quando venni a conoscenza dell'infame segreto che con tanta cura viene tenuto nascosto alle ragazze per bene ero disperata mortalmente triste stanca di tutto ti conduni col desiderio di tornarmene dai miei poveri genitori indomani arrivammo a etretà i bagnanti erano preoccupati una giovane donna morsa da un cagnolino era morta idrofoba un gran brivido mi scese per la schiena quando ascoltai a tavola questo racconto mi sembrò subito che il naso mi facesse male e per tutto il corpo trovai una strana sensazione quella notte non dormii quanto a mio marito lo avevo completamente dimenticato e se anche io fossi stata colpita dallo stesso morbo mortale il giorno dopo su mia richiesta il direttore dell'albergo mi dette dei particolari spaventosi su quella morte passai l'intera giornata a passeggiare sulla scogliera non parlavo più riflettevo la rabbia che morte orribile henry mi domandava cosa avessi e perché ero triste risposi non ho niente niente davvero il mio occhio smarrito si fissava sul mare senza riuscire a vederlo sulle fattorie e sulla campagna ma senza che potessi rendermi conto di cosa stavo guardando per niente al mondo avrei confessato quale pensiero mi torturava senti qualche dolore al naso dei veri dolori acuti voglio far ritorno in albergo appena arrivati mi chiusi in camera per esaminare la piaga non si vedeva nulla eppure senza dubbio alcuno mi faceva male scrissi immediatamente una lettera a mia madre che dovette trovarla strana volevo ricevere un'immediata risposta ad alcune domande insignificanti dopo aver firmato aggiunsi non dimenticarti di darmi notizia di bijoux il giorno seguente non riuscì a mangiare ma non vogli che un medico mi visitasse per tutto il giorno rimasi sdraiata sulla spiaggia a guardare i bagnanti nell'acqua avanzavano grossi e piccolini ma tutti brutti nei loro orrendi costumi da bagno ma non avevo di certo la voglia di ridere pensavo guarda come sono felici non sono stati morsi da un cane loro vivono senza timori si possono divertire quando vogliono sono tranquilli mi tastavo continuamente il naso con la mano forse sarei gonfiato appena tornato in albergo mi rinchiusi in camera per guardarmi allo specchio no se avesse cambiato colore sarei morta di colpo quella sera mi sentii pervasa di tenerezza nei confronti di mio marito una tenerezza che nasceva dalla disperazione mi sembra buono mi appoggiai al suo braccio per venti volte fui lì per confessargli il mio tremendo segreto ma tacqui approfittò in modo odioso del mio abbandono e dello stato di prostrazione in cui ero non ebbi né la forza né la volontà di opporgli resistenza avrei sopportato e sofferto tutto il giorno seguente ricevetti una lettera dalla mamma rispondeva alle mie domande ma di bijù niente nemmeno una parola subito pensai è morto e non me lo vogliono dire volevo precipitarmi alla posta e mandare un telegramma ma mi fermò una considerazione se è morto davvero non me lo diranno mi rassegnai ad altri due giorni di tormento cresi di nuovo chiedendo che mi mandassero il cane per distrarmi dato che mi stavo annoiando nel pomeriggio fui presa da tremiti non riuscivo a sollevare un bicchiere colmo senza versarne la metà le mie condizioni di spirito erano pietose verso sera riusci a sfuggire a mio marito e corsi in chiesa pregai lungamente tornando senti altre trafitture al naso ed entrai in una farmacia tutta illuminata dissi al farmacista che una mia amica era stata morsa al naso da un cagnetto e gli domandai un consiglio era una persona garbata e gentile mi dette un'infinità di informazioni ma io ero così fuori di me che scordavo ogni cosa man mano che la diceva ricordai solo una cosa spesso viene raccomandato di purgarsi comprai diverse bottiglie di un prodotto per mandarlo alla mia amica appena vedevo un cane provavo un senso d'orrore e una gran voglia di scappare a gambe revate molte volte ebbi io stessa così mi sembrò la voglia di morderli passai una notte agitatissima mio marito ne approfittò più di una volta il giorno dopo ricevetti la risposta di mia madre diceva che bijoux stava benissimo ma che era pericoloso spedirlo da solo per la ferrovia insomma non me lo mandavano quindi era morto non potei dormire henry invece russava ma si svegliò parecchie volte io non ce la facevo più in giorno successivo feci un bagno in mare poco ci mancò che mi sentissi male al momento di entrare nell'acqua tanto fredda quella sensazione di gelo mi scosse ancora di più sentivo dei tramiti tremendi alle gambe ora che il naso non mi faceva più male per un caso mi presentarono il medico ispettore dello stabilimento una persona deliziosa lo feci parlare con molta abilità dell'argomento che mi stava a cuore gli dissi che qualche giorno prima ero stata morsa dal mio cagnolino gli chiesi cosa dovessi fare nel caso di una infiammazione si mise a ridere rispose nel vostro caso signora c'è un solo rimedio quello di farvi fare un naso nuovo dato che non capivo aggiunse è una cosa che riguarda vostro marito quando lo lasciai ne sapevo quanto prima quella sera henry sembrava allegro e tutto contento la sera andammo al teatro del casino ma non aspettò neanche la fine dello spettacolo per propormi di tornare all'albergo lo seguì tanto ormai non provavo interesse per nulla non riuscivo a rimanermi all'aletto avevo i nervi scossi a fior di pelle neanche lui dormiva mi baciava mi carezzava dolce ed affettuoso come se finalmente avesse compreso quanto soffrivo subivo le sue carezze senza neanche capire senza pensarci all'improvviso fui assalita da una crisi repentina straordinaria fulminea mandai un grido altissimo e respingendo mio marito che si era aggrappato a me mi slanciai attraverso la camera e andai a cadere col viso contro la porta era rabbia la rabbia orrenda ero perduta henry spaventato mi rialzò mi fece delle domande non gli dissi niente ormai ero rassegnata aspettavo la morte sapevo che dopo qualche ora di tranquillità sarebbe sopraggiunta un'altra crisi poi un'altra ancora sino all'ultima quella mortale lasciai che mi riportasse a letto all'alba le irritanti ossessioni di mio marito provocarono un altro attacco più lungo del primo avevo voglia di strappare di mordere di urlare era terribile eppure meno doloroso di quanto avevo pensato verso le otto del mattino presi sonno per la prima volta dopo quattro notti alle undici fui ridestata da una voce amata era la mamma spaventata dalle mie lettere e accorsa lì per vedermi teneva tra le mani un paniere da cui cominciavano ad uscire dei latrati lo presi sconvolta da una folle speranza lo aprì e bijoux saltò sul letto sgambettando leccandomi rotolandosi sul guanciale invaso da una gioia frenetica insomma cara puoi crederci se vuoi io ho capito solamente il giorno dopo come lavora la fantasia e pensare che secondo me era che stupidazzine non ho confessato a nessuno e tu comprendi il motivo le torture provate in quei quattro giorni pensa se mio marito l'avesse saputo già mi prende tanto in giro per quell'episodio di Purville e poi non m'offendo ai suoi scherzi ci ho fatto l'abitudine nella vita ci si abitua a tutto proprio a tutto grazie a tutti grazie a tutti